15 anni senza Michael Jackson. Sembra un titolo, in realtà è solo l'inizio di questa puntata, un po' speciale. Un po' perché non cade nel giorno esatto della scomparsa di Gekko, ma nell'anno della sua morte sì, quando ha lasciato milioni di fan che ancora oggi lo ricordano con nostalgia. Era infatti giugno del 2009 quando il mondo perdeva Michael Jackson. A darne la notizia bomba, quel triste 25 giugno, la Bibbia del Gossip, ossia TMZ, stroncato da un attacco cardiaco a causa di una dose letale di Propofol, un anestetico. Il re del pop si spense nella sua villa di Holmby Hills a Los Angeles a 50 anni. 18 giorni dopo era previsto il residency show This Is It che avrebbe segnato il suo grande ritorno e addio alle scene. Per la tragica morte dell'artista di maggior successo della storia, il suo medico Conrad Murray è stato condannato a quattro anni di prigione per omicidio colposo involontario, scontata a metà della pena, però tornato libero nel 2013 grazie all'indulto. Ma dopo una carriera tanto folgorante e di un personaggio di cui si pensa di sapere tutto, ecco che forse qualcosa sfugge. E noi, con questa puntata speciale seguita da un'altra, vogliamo provare a mettere insieme il puzzle, proponendovi alla fine di ciascuna pillola una sua canzone. Intanto ricordiamo che la notizia della morte del re del pop si diffuse rapidamente online, mandando in tilt i siti web a causa proprio del sovraccarico degli utenti. Poco prima di morire, una curiosità, eccola qui, un'altra, Michael Jackson, aveva chiesto del latte, cioè soprannome proprio con il quale chiamava il Propofol, questo anestetico che poi gli è stato fatale. La sua dipendenza da farmaci e da antidolorifici era cominciata nel 1984, dopo aver bruciato il cuoio cappelluto in seguito a un incidente sul set di uno spot per una nota bibita. Riportò gravi ustioni di terzo grado che arrivarono fino quasi al cranio. Altra leggenda verità, quella sul colore della pelle. Secondo i suoi detrattori, si sarebbe schiarito per rinnegare la sua discendenza afro. In realtà, l'autopsia confermò che il cantante soffriva di vitiligine diagnosticata nel 1986. Il guanto di strass e le maniche lunghe, anche d'estate, servivano a nascondere la depigmentazione, fonte di imbarazzo appunto per lui. Karen Fay, truccatrice personale di Michael Jackson, lo ha seguito con un'ombra per 30 anni, coprendo questa vitiligine con il make-up. Ma a proposito di pelle, Giacomo soffriva davvero di problemi dermatologici? Sì, in questo caso in realtà più che dermatologici aveva proprio una malattia che si chiama lupus eritematoso sistemico. Questo tipo di patologia causa una fotosensibilità ai raggi solari e danni cutanei. E poi, infine, per oggi ecco un'altra notizia curiosa, quella delle sue nozze. Come molti ricorderanno, nel 1994 il re del pop si sposò con la figlia del re del rock, Elvis Presley, cioè Lisa Marie Presley, ma il matrimonio durò appena 19 mesi. Nel 1997 convolò a seconde nozze con un'infermiera, Debbie Rowey, madre dei suoi due figli, Prince Michael, 27 anni oggi, e Paris, Michelle Katrin, 26. Debbie e il cantante poi si separarono nel 99. Nel 2002 Michael Jackson ha dato poi il benvenuto a Prince Michael Jackson II, da lui soprannominato Blanket, concepito tramite fecondazione in vitro. Oggi il terzo genito si fa chiamare Bee Ge. A proposito, lui stesso era ottavo di dieci figli di una famiglia di classe operaia di Gary nell'Indiana, dove ha vissuto da bambino in una casa con sole e due camere da letto. Lì però ha iniziato anche la gloriosa carriera come bambino prodigio nella band con i fratelli, i Jackson Five. La sua vita è stata accompagnata da scandali e polemiche, che poi si sono abbattute anche sull'attesissimo biopic della sua vita, Michael, diretto da Antoine Foucault, interpretato da Jafar Jackson, vero nipote del re del pop. Prodotto da Lionsgate, è pronto a scommettere che diventerà il maggiore incasso di sempre degli studios e il film uscirà nei cinema ad aprile del 2025. Bene, per ora ci fermiamo qui, ma con un brano indimenticabile, a fare da ponte alla prossima puntata, sempre su Michael Jackson, e cioè Farewell My Summer Love, anno 1984.